ciao sono franco il tevito operatore come ti chiami? Lorenzo. Allora da dove arrivi? Da Parma. Per chi oggi fa il tandem? Me l'ha regalato la mia famiglia se vogliono liberare. Ho capito quindi il bonifico che è arrivato è per te. Senti ti hanno spiegato che facciamo? Si si. Ti ricordi tutto? Mi raccomando ci fanno tutte le figure. Aston Martin qua questa no pure forte. Dai a parte tutto sei qua per divertirti mi raccomando guarda davanti ci sono le telecamere sorridi e fai quello che vuoi tanto il resto fa tutto lui divertiti e benvenuto al campo volo di Reggio Emilia. Ci vediamo dopo. Ciao Lorenzo. Ehi Lorenzo è a bordo. Ehi Lorenzo è a bordo. Fantastico. Non pensavo così. così bello e facile dai. Con lui è stato facilissimo. Grande. grazie mille. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Che bello grazie mille. grazie mille. grazie mille. grazie mille. grazie mille. grazie mille. grazie mille.